Siamo stati in piazza per dire no alle politiche e di organizzare politiche recessive che stanno portando un passato sociale e alla povertà del nostro paese. E in primo luogo la città di Torino. Basta con i tagli di servizi sociali. Basta con le privatizzazioni che intaccano il diritto allo studio, che intaccano i servizi sociali e l'organizzazione. Basta con la sua situazione e di servizi sociali.